Oggi in Comune si festeggia, è una festa questa, è una festa, perché Francesco Ruggero va in pensione, dopo quanti anni qui in Comune? Solo in Comune 39. Ah, solo 39 anni di lavoro in Comune? Sì, sì, non è tanto, insomma, sono tanti, sono tanti, cioè da una parte a me, a piacere vado perché chiaramente, però dall'altra mi dispiace un po' perché questa, come dico sempre, è stata la mia prima casa, non la seconda. Quindi sono stato tante di quelle ore, ma tante, che anche i miei colleghi dico che io faccio parte dell'arredo, quindi al Comune faccio l'arredo. Ha visto più il Comune che casa sua? Sì, 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 sicuramente, sicuramente. Chi era sindaco quando ha iniziato? Era, no, ha iniziato proprio, c'era il... Troppo tempo fa, non si sa, a memoria vacilla. Spallino. Sì, Spallino. Spallino, e poi dopo, però io facevo parte sempre del Comune, però lavoravo fuori. Qui, quando sono qui in Comune, c'era il... Il Pigni. Poi, Spallino, Pigni, poi. Ma c'erano anche gli altri, c'erano il Pigni, il Zeta. Quanti ne hai visti? Per nascondere. Senta, ma adesso che... Quando è che l'ultimo giorno di servizio qual è? Dopodomani. Dopodomani. L'ho fatto... Senta. Lasciare piano piano l'autonomia. Il più bel ricordo o il più brutto ricordo? Lo so, chiaramente i ricordi sono tutti belli, brutti no. Allora facciamo così, il sindaco migliore e il sindaco peggiore. No, no, sono stato con tutti, ognuno chiaramente, siamo persone, ognuno è il suo modo, però guarda, io mi sono trovato bene con tutti. Ma un ricordo particolare che la Lega ha qualche sindaco particolare? Io dico, abbastanza, mi ti abbotta, per la verità, non solamente perché adesso non c'è più, però il suo lavoro è molto preciso, ho dei ricordi belli, ecco. Grazie. 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 Grazie.